CONSAC rinnova i vertici. A Vallo della Lucania l'Assemblea dei Soci ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione di CONSAC Gestioni Idriche e quello di CONSAC Yes, che si occupa delle infrastrutture. Entrambe le presidenze sono state riconfermate al PD, ma non in entrambi i casi, sono stati confermati i presidenti uscenti. Per CONSAC Infrastrutture, infatti, non è stato rieletto Simone Valiante. Al suo posto si insedia il collega di partito Antonio Bruno, consigliere di maggioranza a Vallo della Lucania. Sono consapevole del grande lavoro da fare, ma sono certo, dice Bruno, che con il sostegno della Regione Campania e insieme agli amministratori locali riusciremo a cogliere la sfida che è davanti a noi. Ringrazio Valiante che con lungimiranza, conclude, ha gettato le basi per un futuro ambizioso della società. Nuovi anche gli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione di CONSAC Yes. Insieme a Bruno ne fanno parte Carlo Giuliani e Lucia Feo, consigliere comunale di Omignano. A lei è andata la vicepresidenza. Per quanto riguarda CONSAC Gestioni Idriche, è stato riconfermato alla presidenza l'ex sindaco di Ceraso, Gennaro Maione. Per il CDA sono stati eletti il sindaco di San Giovanni Appiro, Ferdinando Palazzo, il sindaco di Ascea, Pietro D'Angiolillo, l'assessore di Sapri, Franco Di Donato e il consigliere comunale di Teggiano, Rosa Cimino. Per quest'ultima, come per il presidente Maione, si tratta di una riconferma. Le elezioni di CONSAC rientrano nel riassetto politico in corso nel Cilento. Per Simone Valiante, secondo indiscrezioni, pare ci sia in ballo la presidenza del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.